Due candelotti da pesca e liquido infiammabile per l'attentato ai danni del sindaco di Carovigno Vittorio Zizza. Sono le 4 del mattino quando qualcuno viola la villa lungo la via per Torre Santa Sabina del primo cittadino che si trova in casa con la consorte. Scavalca le cancellate a protezione dell'abitazione e arriva fino al via Letto dove sono parcheggiate due vetture una Volkswagen Passat e un Alfa 159 Sport Wagon. Si tratta rispettivamente di quella della consorte e quella del primo cittadino. L'attentatore spacca i vetri delle due auto, l'eco sparge con liquido infiammabile e lancia all'interno dei veicoli un candelotto per ognuna delle due berline. Uno dei due candelotti si spegne, l'altro esplode e la Passat viene carbonizzata dalle fiamme che si sviluppano. L'Alfa resta fortunatamente integra nonostante venga lambita dal rogo. Quando sul posto arrivano i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni non possono far altro che domare le fiamme della vettura distrutta. Svegliati di sopra assalto nel sonno il sindaco Vittorio Zizza e la moglie. Immediato il coinvolgimento delle forze dell'ordine indagano sul grave episodio i carabinieri della locale stazione della compagnia di San Vito dei Normanni guidati dal capitano Ferruccio Nardacci. A loro disposizione ci sarebbero le immagini delle telecamere interne di videosorveglianza della villa. Nel video comparirebbe un solo attentatore anche se non escluso il fatto che possa aver agito in compagnia di un'altra persona e che ci fosse qualche complice ad attenderli all'esterno. Gli investigatori lavorano sotto stretto riservo non escluso che i video possano consentire una rapida individuazione dei soggetti che hanno sfidato senza mezze misure il sindaco espressione del movimento La Puglia prima di tutto dell'ex ministro Raffaele Fitto. Zizza dopo l'organizzazione dell'ultimo congresso provinciale del PDL ha detta di tutti un potenziale candidato al senato del proprio partito quindi un politico in ascesa ma anche un sindaco di un comune che sta gestendo numerose e a volte molto contestati di progetti e di investimenti privati soprattutto lungo la costa. La quale direzione giunge l'attentato? E questo è uno degli interrogativi al vaglio degli investigatori. Sono fiducioso nel lavoro degli investigatori, dice il primo cittadino, ho apprezzione per la mia famiglia. Per quanto mi riguarda sono sereno e non mi lascerò intimidire. Nessuna ipotesi circa chi possa aver messo a segno l'attentato potrebbe trattarsi del gesto di un balordo isolato, dice il sindaco, che non ricorda negli ultimi tempi nemmeno disperati in cerca di lavoro che magari possano essere rimasti delusi da qualche promessa.